Non avete approvato i rendiconti e i retrati facendo chiarezza su debiti e credite del passato e allora senza certezze sui fondi realmente disponibili non potete procedere a nuove assunzioni o rinnovare i contratti a tempo determinato. Questo in soldoni ha risposto la Corte dei Conti alla richiesta di un parere inoltrato dal Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Un parere ancora da decifrare sulla sua effettiva portata ed effetti concreti che ha creato però il panico soprattutto tra i tanti collaboratori dei gruppi politici in particolare tra quelli il cui contratto è già scaduto o terminerà breve. Prima cioè che la Regione riesca a recuperare il tempo perduto e completare le verifiche contabili dell'annualità 2014 e 2015 rimettendosi finalmente in regola. Lo stesso Di Pangrazio al nostro microfono tiene però a precisare che tale blocco ad un'attenta interpretazione del parere della Corte non si applica in realtà ai precari del Consiglio regionale e dunque agli staffisti dei gruppi. La Corte dei Conti ci dice che se non sono approvati i rendiconti degli anni passati non è possibile assumere altro personale. I dipendenti dei gruppi quindi che fanno assistenza, un lavoro importantissimo per i consiglieri regionali in un primo momento sembrava che fossero inclusi all'interno di questo chiarimento, di questo parere. Approfondendo il parere del chiarimento a noi risulta che il rapporto di lavoro privatistico che il gruppo stipula con i propri assistenti attraverso altre forme di lavoro sono del tutto regolari per cui immagino che si possa procedere con una certa serenità.